Ciao a tutti da Tommy e bentornati a One Minute Music. Questa settimana una temibile sciagura si è abbattuta sul nostro paese. L'annuncio dello scioglimento ufficiale e definitivo degli Elio e le storie tese. Si è perso quindi d'obbligo a dedicare questo appuntamento alla mitica band e al loro ultimo singolo, L'Icantropo Vegano. Non vi annoierò sulla storia di Elio e le storie tese. Il gruppo ha 37 anni di attività, 10 album in studio e ha fatto praticamente tutto dal teatro all'opera alle trasmissioni radiofoniche. Il virtuosismo della band è sempre stato coniugato a una devastante ironia e demenzialità creando capolavori come Parco Sempione o Il vitello dai piedi di balsa. Per chiudere simbolicamente la carriera, gli Elio hanno pubblicato recentemente quello che sarà il loro ultimo singolo, L'Icantropo Vegano. Non si tratta di un brano originale, quanto piuttosto di una cover parodia del brano Werewolves of London, scritto da Warren Zevron nel 1978. La band milanese darà l'addio al pubblico con il concerto definitivo previsto per il prossimo 19 dicembre al Mediolanum Forum. Ascoltate il brano completo qui sotto. Ciao e alla prossima settimana!